Nasce anche in Abruzzo donatori nati Polizia di Stato, l'associazione che da 18 anni su tutto il territorio nazionale è impegnata nella raccolta di sangue e nella divulgazione della cultura del dono del sangue. La presentazione della nuova associazione si è tenuta questa mattina nel corso della giornata mondiale del donatore presso il centro polifunzionale della Polizia di Stato di Pescara alla presenza fra gli altri del prefetto Giancarlo Di Vincenzo del questore Luigi Liguori del colonnello Gaetano Larocca del comando provinciale dell'arma dei carabinieri e del presidente donatori nati Abruzzo Graziano Morresi che ha illustrato l'iniziativa. L'obiettivo dell'associazione donatori nati della Polizia di Stato è quello di propagandare la donazione quindi andare nelle scuole andare negli uffici dove c'è la possibilità di trovare gente che voglia donare il sangue perché la donazione del sangue è una cosa importantissima crea fa bene alla salute fa bene anche a chi lo dona perché gli da anche il sistema anche l'assistenza morale perché è bello sapere che col suo sangue qualcuno può vivere. Ieri mi è arrivato la notifica che la regione ci ha riconosciuto come donatori Abruzzo, donatori nati Abruzzo. E quindi fino adesso stavamo lavorando, lavoravamo con l'Avis, con la collaborazione dell'Avis all'interno della scuola di Polizia, abbiamo fatto un paio di maratoni, abbiamo raccolto una cinquantina di nuovi donatori che seguitano poi a donare perché una volta che ci hanno conosciuto i poliziotti. Non potevamo lavorare fuori perché se poi dopo chiedi alle persone di venire a donare e poi non lo puoi far donare allora non era possibile farlo. Adesso cominceremo a lavorare, pandemia permettendo, rientreremo nelle scuole, andremo a fare dei convegni, delle cose nelle scuole per farci conoscere, per far conoscere soprattutto ai giovani l'importanza della donazione.